La prima in Italia, una norma pilota per il paese che potrebbe fare davvero giurisprudenza. Si tratta del progetto di legge 24 del 2019, presentato questa mattina a Pescara dal presidente del Consiglio regionale Sospiri e dal vicepresidente Vicario Roberto Sant'Angelo. Il progetto di legge, che ha potuto giovarsi di alcuni contributi delle minoranze, riguarda le norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti in tutta la regione Abruzzo e interessate da cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post-sisma 2009 e 2016-2017. Si tratta dei ristori che le imprese riceverebbero per i mancati guadagni causati dalla presenza dei cantieri. Come tutte le leggi pilota avrà bisogno di una fase di analisi, infatti abbiamo inserito una clausola valutativa per vedere se funziona questa norma. Se non funziona la correggeremo. Intanto affermiamo un principio. Chi è una partita IVA che alza la famosa saracinesca che tutte le mattine viene alzata da qualcuno non può essere danneggiato da un cantiere pubblico che si protrae oltre i tempi e che appunto crea un mancato incasso. Questo mancato incasso, qualora fosse dimostrabile, sarà ristorato. Nella legge è sancito un principio. In 45 giorni la giunta regionale deve varare il regolamento esecutivo. Poi saranno attori principali anche i comuni perché i padroni del territorio all'interno del comune è appunto l'istituzione comune. Il comune dovrà fare degli avvisi, si riceveranno quelle che sono le stanze dei commercianti e degli artigiani che hanno subito dei mancati incassi e poi la regione darà ristoro. Non è una legge manifesto, l'abbiamo aperta anche agli spunti e le migliorie dell'opposizione attraverso alcuni eventamenti che abbiamo recepito perché secondo noi il territorio va amministrato in questo modo. Non esiste una maggioranza o una minoranza ma esiste il buon governo per la regione Abruzzo. Grazie a tutti.